Per il loro novantesimo compleanno, sono stati fondati nel 1934, i canottieri comunali di Firenze non hanno ancora una soluzione per la storica sede sull'Ungarno Ferrucci, di proprietà del comune. Nel settembre scorso sembrava che non ci fossero più grosse speranze di salvare le strutture, utilizzando la normativa che consente la permanenza di edifici storicizzati di valenza storico-sociale, perché erano andati perduti, probabilmente nell'alluvione del 66, i documenti urbanistici che dimostravano l'esistenza degli edifici prima del 1953, come impone la legge sulla sanatoria storica. Nacquero nel dopoguerra come dopolavoro per i dipendenti comunali, quindi esistevano, il problema è dimostrarlo. Per la parte delle gradinate che affacciano sull'Arno, quella meno recente, i canottieri sono riusciti a dimostrare la legittimità urbanistica, il problema rimane per le altre strutture, ma una speranza si è riaccesa qualche mese fa con il ritrovamento di vecchi documenti di archivio e foto d'epoca. I canottieri comunali si reggono sulle quote dei 400 soci e un contributo minimo da parte del comune, anche la ristrutturazione non sarebbe quindi economicamente facile. Qui è tutto da ristrutturare, però non avendo questa legittimazione non possiamo nemmeno investirci. In ogni caso l'ipotesi di cambiare sede, e il rischio ancora c'è, non è scongiurata, ma è un'opzione che i canottieri comunali non vogliono nemmeno prendere in considerazione. Noi abbiamo bisogno di essere a stretto contatto col fiume perché dobbiamo sorvegliarlo, poi dobbiamo spostare le barche, quindi non possiamo andare a 50 metri di distanza. Su questo tratto sinceramente non vediamo un'altra possibile colorazione. È un filo sottile quello a cui si aggrappano i canottieri, ma con la documentazione ancora da consegnare al comune, la speranza è ormai affidata alla prossima amministrazione. Con questa amministrazione ormai siamo a scadenza, quindi tutte le nostre speranze si riversano sull'amministrazione che verrà. Se quella che verrà sarà guidata da Sara Funaro, che ha lanciato l'idea dell'isola sull'Arno, un appello arriva dalla segretaria generale dell'autorità di Bacino. Oltre a costruire qualcosa di nuovo, ricordiamoci di quello che c'è.